Buongiorno a tutti, io sono Marta e sono un chimico. La storia che vi racconto oggi parla di chimica e di ambiente. Una chimica che l'ambiente lo tutela e non lo distrugge. E forse per qualcuno questo può sembrare un po' strano, ma è proprio il punto. È una storia che comincia da una piastrella che una professoresta dell'Università di Milano mi ha mostrato dicendomi con questa potremmo purificare l'aria. E io mi trovavo nel Dipartimento di Chimica Industriale. E in effetti se scriviamo Industria Chimica su Google lo scenario non è allettante. E io mi chiedevo appunto se la proposta di dottorato di ricerca in questa disciplina, chimica industriale, potesse essere compatibile con quello che in fondo era il mio grande amore per l'ambiente. Ecco, la risposta in una semplice piastrella e, meglio, in una parola, fotocatalisi. Per comprenderla facciamo un passo indietro. Catalisi dal greco catalisis scioglimento, inventata da questo scienziato Berzelius dal 1835. Si era accorto che effettivamente certe reazioni procedono più velocemente alla presenza di altre sostanze. E perciò parla di forza catalitica, che agisce, dice, come una frusta su un cavallo stanco. Ed effettivamente non è sufficiente che siano presenti i reagenti affinché una reazione proceda, perché è come se ci fosse una barriera tra essi. Il catalizzatore li rende capaci di distruggere questa barriera e perciò agisce come un promotore e permette che avvengano reazioni che altrimenti impiegherebbero giorni o anni per completarsi. Noi però parlavamo di fotocatalisi. Ecco, il nostro materiale attivatore è per così dire dormiente e non si accorge assolutamente delle molecole che ha intorno, a meno che non venga illuminato dalla luce. La luce lo attiva e in chimica attivarsi vuol dire avere elettroni disponibili. Ricordatevi di questi elettroni e andiamo a vedere chi è il fotocatalizzatore. Fisicamente è una polvere bianca e si chiama biossido di titanio. Dal punto di vista chimico è un semiconduttore e appunto i suoi elettroni sostanzialmente non sono capaci di muoversi, a meno che qualcuno non gli dia energia. E questa energia, nel caso del biossido di titanio, può arrivare proprio dalla luce. Questa scoperta non è banale e valse, infatti, la conquista del premio Nobel nel 1972 a questo scienziato Fujishima che pubblica la scoperta su Nature. Di cosa si era accorto? Che in una cella elettrolitica dove gli elettrodi sono platino e biossido di titanio abbiamo un passaggio di corrente, quindi di elettroni, al solo illuminare il biossido di titanio con la luce UV e abbiamo delle reazioni. L'acqua si scinde in idrogeno ed ossigeno. Andiamo a vedere meglio da vicino il meccanismo. Questi elettroni del biossido di titanio, per così dire dormienti, stanno in una zona che chiamiamo banda di valenza. L'energia della luce gli consente di fare un salto e quindi di rendersi disponibili a reazioni che chiamiamo di riduzione. La carica positiva che l'elettrone che ha fatto il salto si è lasciato alle spalle dà invece reazioni di ossidazione. Ma il punto è perché sono così interessanti. A noi in realtà interessa proprio l'ossidazione, da ossidi di azoto a nitrati e da composti organici ad anidride carbonica. E perché è importante questa reazione? Perché gli ossidi di azoto sono i principali inquinanti dell'area delle nostre città. Superano i valori di soglia nella maggior parte dei centri urbani e ossidati a nitrati non lo sarebbero più. Allo stesso modo, le nostre case sono ricche di composti organici volatili nocivi che derivano proprio dai materiali che usiamo per costruirle. E noi, che siamo stati definiti indoor generation, passiamo all'interno degli ambienti chiusi circa il 90% del nostro tempo. Ambienti chiusi dove l'aria è cinque volte più inquinata di quella all'esterno. Perciò ecco l'obiettivo della ricerca. Pensare di incorporare le proprietà chimico-fisiche del biossido di titanio in grado di ossidare, e ossidare vuol dire degradare gli inquinanti, a un materiale ceramico che potesse essere utilizzato davvero negli ambienti quotidiani e che potesse essere attivato semplicemente dalla luce. Mi piace pensare a un progetto di ricerca che cresce un po' come una piramide. Quindi siamo partiti dal basso studiando l'attivazione del biossido di titanio con la luce. L'abbiamo modificato, e poi vi racconto come per renderlo più attivo, l'abbiamo trasformato in un inchiostro e l'abbiamo depositato su materiali appunto che potessero essere utilizzati concretamente nelle case. Sempre con un target eco, perché i processi devono essere eco-sostenibili e eco-compatibili. Cominciamo dalla luce. Come vi ho detto, che il biossido di titanio venisse attivato dalla luce ultravioletta lo sappiamo dal 1972. Quindi la sfida era renderlo attivo alla luce visibile, in modo che potesse essere usato appunto negli ambienti quotidiani, quindi con la luce del sole, che contiene solo il 5% di radiazioni UV, o con la luce delle lampadine. Ecco la meraviglia della chimica. Le nanoparticelle di metalli hanno una capacità, assorbono la luce visibile, quindi su una particella di biossido e di titanio abbiamo depositato nanoparticelle di argento, che appunto assorbono la luce visibile e hanno tanti elettroni disponibili, che quindi si rendono disponibili al sistema per fare le reazioni di ossidazione che abbiamo visto prima. In laboratorio, dal punto di vista fisico, abbiamo proprio sintetizzato queste nanoparticelle di biossido di titanio e di argento, le abbiamo depositate su vetrini e le abbiamo inizialmente testate in questo reattore che vedete qui. Immaginate l'aria all'interno di questo reattore ricca di composti organici e quello che abbiamo visto è che accendendo la luce la loro concentrazione effettivamente diminuiva. Quindi siamo passati a depositarli su un materiale ceramico vero e proprio, con una tecnica diciamo classica, che però presentava degli svantaggi, soprattutto dal punto di vista degli sprechi e della scarsa efficienza. E allora abbiamo pensato a questo. Queste che vedete nella foto sono sostanzialmente stampanti che l'industria della ceramica utilizza banalmente per decorare le piastrelle. E allora abbiamo pensato di creare un inchiostro con la nostra conoscenza della chimica, cosa che abbiamo fatto. E l'abbiamo creato però con sempre attenzione all'ecosostenibilità e all'ecocompatibilità, quindi usando acqua al posto di solventi organici nocivi, riuscendo a risparmiare quindi gli sprechi e ridurre gli sprechi del 50% e aumentando l'efficienza del processo ulteriormente del 50%. Avevo quindi ottenuto il mio materiale ecoattivo. I miei dubbi iniziali quindi erano più che risolti e anzi sono, diciamo, fiera di essere un chimico perché la conoscenza microscopica e molecolare della materia è ciò che ci permette di ottenere materiali sempre più innovativi e che vengono utilizzati in processi innovativi. Perciò una chimica positiva che aiuta l'ambiente. E concludo, siccome non ho più tempo, lasciandovi questa frase che spero vi porti a avere un'ispirazione per il vostro percorso. Grazie.